La salute mentale come bene comune è una cultura che cambia in Europa e nel mondo. Tema il centro dell'incontro organizzato al Circolo della Vela di Termoli dall'AIRSAM, l'Associazione Italiana Residenze e Risorse per la Salute Mentale. Un evento per ritrovarsi, rivedere lo statuto e fare il punto dopo 20 anni di intensa attività all'interno di una rete formata dai maggiori professionisti di un settore in evoluzione dove il confronto e lo scambio di esperienze sono fondamentali. Già Presidente e Direttore del Centro di Salute Mentale di Termoli, Angelo Malinconico, ha evidenziato gli obiettivi dell'evento. Riorganizzare l'AIRSAM con grande attenzione ai territori ma riconducendola ad una centralità come associazione. Altro obiettivo è cercare di identificare bene i temi portanti e cercare di scambiare con realtà non solo italiane ma anche internazionali. Sono intervenuti tra gli altri specialisti dall'Uruguay in videoconferenza, rappresentanti della psichiatria sociale italiana e delle più importanti cooperative impegnate nella tutela della salute mentale. Punto forte dell'AIRSAM è la promozione del piano d'azione locale che si rivolge ai servizi sanitari e sociosanitari finalizzati alla prevenzione e alla cura e alla promozione della salute mentale di comunità attraverso un percorso di intervento sulle buone pratiche di concertazione sociale. Una serie di esperienze che tendono a consentire alle persone di vivere non in strutture ma in una dimensione di autonomia pur avendo gli aiuti, i supporti che sono necessari poi per l'effettivo esercizio di tutte le attività e i diritti che sono propri di un cittadino.